Ben tornati a tutti. Oggi è sabato, 7 ottobre, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Acquario. Sereni anche con pochi soldi in tasca. Pochi soldi, questa è una realtà a cui, volenti o nolenti, siete costretti ad adeguarvi e con Saturno in seconda casa non potete sperare di più. In compenso contate sul lavoro perfettamente in linea col vostro carattere e le vostre aspirazioni, esprimere se stesse attraverso la propria opera è una cosa bellissima, ecco il parere di Confucio sul quale concentrare il pensiero della sera scegli il lavoro che ami e non lavorerai neppure un giorno della tua vita. Serata in famiglia con una cena più curata del solito e qualche bocconcino vola anche a Snoopy o Lulu, sono parte integrante del gruppo e anche se il veterinario vi bacchetterebbe un assaggio glielo, solo uno, però. La felicità, un rapporto cresce e matura, una coppia nasce con buone prerogative e un concreto futuro. Armonia e annuncio di fidanzamento, matrimonio, convivenza. Gioie profonde in amore che si consolidano e sfociano in rapporti felici e duraturi. Ritorni in amore, gioie condivise, tra pacificazioni importanti e definitive. I single presto avranno un nuovo amore e una nuova vita felice. Oggi alcuni potrebbero perdere dati importanti lavorando al computer, fate molta attenzione a virus in agguato che potrebbero danneggiarvi il computer. Qualcuno sta cercando di attentare alla vostra privacy, non permettete che intrusi vi giudichino e, soprattutto, che mettano il naso laddove non è consentito. Per intenderci difendete a denti stretti la vostra privacy. Se siete in conflitto con il vostro partner correte subito a chiarire dei malintesi o qualche discussione che vi ha visti intolleranti e irremovibili. Potrebbe infatti scavare nel profondo del vostro rapporto. Problemi con banche e finanziarie. Anche con i vostri creditori oggi non sarà affatto una passeggiata. Se state pensando di ristrutturare un appartamento fate prima bene i conti. Fateli bene, molto bene. Mercurio oggi sembrerà abbandonarvi, le comunicazioni con i vostri amici e parenti ne risentiranno parecchio. Se attendete delle risposte via mail o posta queste ritarderanno. I nati di martedì e mercoledì devono stare particolarmente attenti a non rovinare tutto con la loro gelosia. Organizzare un viaggio, questo potrebbe essere per voi oggi un'occupazione interessante. Del resto ve lo meritate. Saturno e Giove oggi vi faranno sentire particolarmente vivi e pieni di forza. Cercate di approfittarne per fare colpo su qualcuno che vi interessa. Potreste avere un successo inaspettato. Se i pianeti oggi sono a voi sfavorevoli non perdetevi d'animo e cercate piuttosto la compagnia di buoni amici che sappiano consolarvi. Mercurio nel segno amico della bilancia splende per voi, aumentando il vostro fascino e, per chi ne ha la possibilità, aprenda esperienze culturali e artistiche, anche attraverso piccoli spostamenti nelle immediate vicinanze. Solo chi appartiene alla seconda e terza decade, fronteggia il duo Giove, urano imbronciato dal toro, che gli pone lievi problemi familiari. Per chi di voi ne ha la possibilità il contatto con l'aria e l'acqua consentono di rigenerarsi e ricreare le energie. Nuoto, vila, canottaggio e bici sono le attività per voi più congeniali. Marte vi facilita la passione anche per nuovi altri sport. Tanto lavoro con la luna in sesta casa, infatti a sera ci arrivate spappolati, senza nessuna voglia di uscire e magari perfino di cenare. Saturno sparagnino in seconda casa non vi fa solo risparmiare denaro al ristorante, ma perfino il cibo che avete nel frigo. Semplicissima la ragione, la stanchezza vi toglie anche l'appetito. In ogni caso con un po' di risposo vi ripiglierete in fretta, nel silenzio di casa vostra un po' di musica e una tisana vi aiuteranno a riprendervi e non dimenticate il potere terapeutico del vostro quattro zampe, un vero sciamano capace di assorbire i vostri malanni smaltendoli subito per restituirvi un'ottima forma. Inutile farsi il sangue amaro per le finanze proprio ora, le tasse le avete pagate, le rate del mutuo pure e allora. Il resto basterà, l'essenziale è non avere grane. Amore ed eros. Amate la vostra famiglia, il partner, il quattro zampe, ma quando si tratta di esplicitarlo a parole vi ritraete come punti da uno spillo. Ammetterlo per voi è come mettersi al collo un guinzaglio e sulla bocca la moseruola, volete restare padroni dei vostri sentimenti e l'unico a cui sussurrate parole tenere è il vostro cane o il vostro gatto. Tanto confidate nel fatto che non andrà a ripeterle in giro. La vita affettiva si nutre di rapporti importanti sia di quelli consolidati nel tempo che di nuovi, che si fanno strada. Se siete nati in febbraio vostro temperamento molto liberale può essere scambiato per disinteresse. Sappiate dosare i vostri slance e la capacità di lasciare spazio al partner, che alcuni erroneamente scambiano per indifferenza. Plutone e Marte entrambi positivi vi aiutano nell'espressione del vostro desiderio. Lavoro e denaro? Da fare oggi ne avete fino a sera e anche se siete stanchi sentite di dover tenere duro, infatti è soprattutto nell'azienda di famiglia o nella vostra attività improprio che vi impegnate. Il fatto di non avere nessuno che vi tiene il fiato sul collo vi fa sentire liberi e dunque più volenterosi, in fondo state facendo i vostri interessi, qui non occorre barare. Nettuno in bella posizione dai pesci vi consente ottime performance lavorative, specie se siete della terza decade e se avete abbracciato una libera professione. Sapete giocare d'anticipo e siete voi a creare i cambiamenti, prima e anziché attendere che si verifichino. Benessere. Serata tranquilla a casa, anche se è sabato, dunque diversa dal consueto. E se la stanchezza sulle prime vi toglie l'appetito, solleticato dai profumi e dai colori del vostro bel piatto ritorna. Masticate con calma per garantirvi una buona digestione e poi andare a letto presto, garantito che dormirete come neonati. Per lei, chi lo dice che per cucinare bene bisogna avere un portafoglio di zio paperone? Con fantasia, abilità e cnovova preso dai vecchi di famiglia o da qualche viaggio particolarmente suggestivo, ammannite una cena gourme con pochi ingredienti, semplici e a buon mercato. Per lui, contestatori nati, ma quando le tradizioni le apprezzate considerando le radici solide e valide per far crescere l'albero del futuro, siete i primi a caldeggiarli, uomini senza pregiudizi né condizionamenti, seguite il cuore, sicuri di non sbagliare. Colore delle emozioni, blu notte. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 9, finanze, 5, benessere, 9. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.